6.800 espositori provenienti da 98 paesi hanno presentato la propria offerta in una superficie espositiva di quasi 300.000 metri quadri a 160.000 visitatori professionali giunti da tutto il mondo. Siamo a Colonia, dove dal 5 al 9 ottobre si è svolta la Biennale Anuga, la manifestazione leader a livello mondiale nel settore food e beverage, a cui ha preso parte anche la Puglia. La presenza italiana alla Kermesse è stata la più numerosa, ben 1043 gli espositori giunti in Germania, più del doppio degli operatori spagnoli e quattro volte quelli francesi. 825 le aziende tedesche che hanno fatto ricorso alla fiera come piattaforma di business. La Puglia anche quest'anno si è confermata tra i protagonisti più attivi. A promuovere il paniere dei prodotti d'eccellenza agroalimentare della regione, 40 aziende ospitate nella collettiva dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la cui partecipazione è stata organizzata dall'assessorato alle risorse agroalimentari della regione Puglia. Sono particolarmente contento perché siamo riusciti a mettere insieme 40 aziende, 40 produttori pugliesi, li abbiamo inseriti tutti nella stessa area e soprattutto sono ancora più contento perché abbiamo potuto noi come assessorato supportare queste iniziative in termini economici ma anche in termini promozionali. Da Anuga si attendono buoni risultati dunque, visto l'interesse crescente dei buyer di tutto il mondo nei confronti dei prodotti agroalimentari pugliesi. Olanda, Germania, Svezia, Danimarca, anche dalla Finlandia, ma anche alcuni paesi tipo Nord America, Canada e anche lo stesso Messico hanno dimostrato un forte interesse per i nostri prodotti. La nostra azienda vende il 75% del prodotto nei mercati esteri e Anuga per noi rappresenta un evento molto importante in quanto c'è una forte presenza di buyer da tutto il mondo che cercano e ricercano prodotti di ottima qualità, soprattutto l'olio extravergine di oliva italiano. La conferma di un trend positivo che negli ultimi anni ha visto consolidare il ruolo di un territorio rurale ed agricolo che racchiude un patrimonio no gastronomico ovunque richiesto ed apprezzato per la qualità, il gusto e la sicurezza alimentare. Qualità e sicurezza alimentare protagoniste di un workshop che si è tenuto lunedì 7 ottobre a Colonia nel centro congressi della Fiera, dedicato al marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale prodotti di qualità Puglia. All'incontro hanno partecipato aziende pugliesi, stampa ed addetti ai lavori del mercato tedesco che hanno ribadito ancora una volta la necessità di lavorare per assicurare una qualità e tracciabilità dei prodotti in grado di garantire consumatori e produttori.